Una grande paura per Claudio Lippi, aggredito nella capitale. Tutto iniziato perché il conduttore ha ripreso un signore che aveva gettato l'immondizia per strada nonostante la vicinanza di due cassonetti. Poi la discussione è trascesa e Claudio ha avuto paura di essere accoltellato. Le sue non sono state parole cattive. Parole normali ha raccontato in un'intervista nuovo. Mi ho fatto osservare che il suo comportamento non era quello giusto. Mi ha riconosciuto e ha reagito con rabbia. Pensi di potermi dire qualcosa perché sei un volto tv? Poi si è avvicinato infilando la mano in tasca. Il gesto naturalmente l'ha spaventato. Ho temuto di prendermi una cortellata. Purtroppo leggo i giornali e guardo i tg. So che cosa può accadere e mi sono allontanato. Il caso non è isolato e in questi momenti è difficile rimanere tranquilli. Non posso essere ottimista. La percezione della poco sicurezza e la realtà coincidono. Ormai ho superato i 70 anni. Non mi piace la parola vecchio ma sono sensibile a ciò che accade agli anziani. Le truffe seguite spesso dalla violenza ci ricordano la loro solitudine e la fragilità. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un like di supporto.